Sì, siamo partiti forti sin dall'inizio e quando abbiamo trovato il gol abbiamo continuato a spingere sull'acceleratore e abbiamo chiuso la partita. Ti ha detto qualcosa poi, magari nello spogliatoio, il mister, visto che state raccogliendo davvero tanto, magari in avvio di stagione avevate raccolto meno di quello che forse dimostravate anche sul campo. Sì, infatti, anche secondo me le prime partite forse meritavamo qualcosa in più, purtroppo non sono arrivati i risultati, però ora abbiamo fatto una bella striscia positiva e dobbiamo continuare su questa strada, che è sicuramente quella giusta. Cosa è cambiato nel Novara in questo periodo qui, visto che, come stavamo dicendo, riesce a macinare punti su punti ormai da sei giornate? È cambiato qualcosa nello spogliatoio tra di voi? Se è cambiato qualcosa? Ma no, nello spogliatoio secondo me è sempre rimasto lo stesso, siamo comunque un grande gruppo. Un po' più di consapevolezza, forse. Sì, certo, e quello te lo portano anche i risultati, perché comunque quando inizi a vincere prendi anche più fiducia e quello comunque ti dà una grande spinta, quindi sicuramente è quello.